Ehi, aspettate un attimo! Kay, voglio conoscere il motivo della tua decisione. Che cos'è che ti ha spinto ad abbandonare i Blade Breakers per unirti proprio alla squadra dei Neo Borg? Francamente non riesco a capire cosa ci trovi di tanto strano. Kay ha preso una decisione, non è tenuto a dare spiegazione. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!